fratelli miei se qualcuno tra di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati lettera di giacomo capitolo 5 versetti 19 e 20